M. Foscarini, questo è il calcio e questa è la Serie B. Io l'ho detto, però non mi serviva questa partita per capirlo. Partite del genere ne ho viste tante in questi anni, quindi situazioni in cui magari una partita perde il suo equilibrio su un dettaglio, su un tiro in porta, su una palla non pressata come è successo a noi. Quindi questo ti fa cambiare l'andamento della partita. Dispiace perché credo che poi la partita l'avevamo centrata sul piano dell'approccio, sul piano della determinazione, con qualche difficoltà nella costruzione del gioco. Perché loro era una squadra che pur di essendo di qualità ma anche fisica ti pressava molto all'inizio del gioco e quindi ci stava un attimino avere anche qualche difficoltà. Però ci siamo adattati, l'abbiamo letta bene. Però su quel particolare mi ha dato fastidio perché su quel particolare, su quel tiro, siamo mancati. Il giocatore da solo non si lascia? Sì, non si lascia perché soprattutto in un momento in cui magari la squadra, se c'era una squadra che poteva creare la situazione, forse era più la Pro Vercelli che la Ternana. Era un momento in cui magari stavamo bene, stavamo gestendo bene. Però questo ti fa pensare che poi, ecco, su quel dettaglio siamo mancati. Quindi fino all'ultimo bisogna essere molto lucidi e capire molto determinati che anche un tiro da parecchi metri fuori area può insaccarsi.